Salve a tutti, mi chiamo Anna Antonini e i miei sogni piano piano quando sono cresciuta sono svaniti, però il mio sogno più grande è più che altro un miracolo, cioè che la gente si adegui alle persone che possono essere diverse, a partire dal colore della pelle e a partire dalle diversità come i disabili, perché mio fratello infatti è così. Le persone non si abitueranno mai, cioè io spero che si abitueranno a queste diversità che la gente può avere.